Salve, benvenuti a tutti a questa nuova lezione in cui parleremo della rete di telefonia mobile, introduzione, funzionamento e normativa. Partiremo dai cenni storici, vedremo la rete GSM in grandi linee come funziona, parleremo dei modi e delle procedure con cui i nostri cellulari riescono a dialogare con la rete e per finire guarderemo quelli che sono in maniera accennata le normative che regolano la conservazione dei dati e il loro accesso per le finalità di procedimenti penali. Cenni storici, facciamo una breve carrellata per ricordare come si è evoluta e peraltro in maniera molto rapida la telefonia mobile. Nasce all'inizio degli anni Ottanta, si tratta di sistemi analogici full duplex a modulazione di frequenza che utilizzano una tecnica a commutazione di circuito e un accesso multiplo di tipo FDMA. Questi si tratta sostanzialmente di reti che erano denominate anche più facilmente in Italia come reti TAX, in cui appunto il telefono aveva questo funzionamento in rete di tipo più analogico, il segnale peraltro aveva un'ottima qualità, ma per contro aveva come difetti il fatto di poter supportare un numero limitato di utenze e comunque nessun servizio poteva essere erogato a dispetto di quelli che invece vediamo oggi. A partire dagli anni Novanta cominciano poi a diffondersi i sistemi di seconda generazione 2G basati su tecnologia digitale. Questo fatto del passaggio dalla parte analogica, dalla tecnologia analogica a quella digitale è proprio il passaggio che ha consentito di implementare tutta una serie di nuovi servizi, come andremo a vedere, ma soprattutto di avere una gestione di molte più utenze utilizzando di fatto la stessa banda di frequenze, perché il problema da risolvere è sostanzialmente questo, avere un certo numero di frequenze a disposizione e ottimizzarle al fine di servire il numero di persone più alto possibile. Il GSM sta per Global System for Mobile Communications, è nato in Europa e si diffuse in molti paesi asiatici ed in Australia. È di fatto oggi lo standard adottato da tutti, ma all'epoca in cui cominciò effettivamente questo era l'ambito geografico in cui si è sviluppato. Tra l'altro abbiamo cominciato con questo tipo di meccanismo 2G ad avere anche la possibilità di un collegamento di tipo dati, con velocità che sono di 9-14 kbps, velocità che sono sostanzialmente ridicole confrontate con quelle dei giorni nostri, però effettivamente all'epoca ha costituito già la prima possibilità di poter effettivamente interloquire intanto con la rete internet. A titolo esemplificativo ho portato qualche reliquia di quel periodo, questo è un telefono 2G che praticamente aveva, come vedete anche dal display, funzionalità ridotte. La tecnologia ha consentito poi di arrivare a rimpicciolirli un po' di più questi telefoni, consentendo di avere le stesse funzionalità in spazi sempre minori, con display leggermente più grandi. Parliamo comunque di dispositivi che comunque avevano queste limitate funzionalità e velocità. Si sono evoluti però con un passaggio intermedio a 2,5-2,75G tra la fine degli anni 90 e l'inizio del 2000, per venire incontro alla crescente richiesta di servizi seguita all'enorme successo dei sistemi di seconda generazione. Sono stati introdotti dei nuovi standard basati sulla commutazione di pacchetto. Questi standard sono sostanzialmente il GPRS e l'Edge che è un enhanced GPRS. Le velocità che potevano essere ottenute con questi nuovi standard erano da 20 a 40 kbit al secondo per arrivare con legge a 60 kbit e 180 kbit. E qui abbiamo, sempre per fare, continuare la nostra rassegna di esempi, come la tendenza era quella di ridurre le dimensioni dell'apparato con un display comunque sufficiente per poter comunque scambiare dei dati in maniera più agevole, ma grazie soprattutto alla possibilità del traffico dati, si è arrivati ai primi dispositivi diciamo informatizzati, come questo palmare che in tecnologia Edge consentiva con la pennina e con la tastiera già di intendoquire con la rete internet, potendo fare le navigazioni sui siti web e comunque poter anche effettuare delle operazioni un pochino più evolute. Passiamo poi al 3G, con la terza generazione si è tentato senza successo di realizzare un unico standard mondiale, nel senso che comunque sono molti gli standard di questa tipologia esistenti, quello che riguarda principalmente la nostra nazione in generale d'Europa è questo, l'Universal Mobile Telecommunication System, noto come UMTS, che è uno standard che consente delle velocità, come si può notare, particolarmente elevate, da 380 a 700 kilobit fino a 42 megabit che sarebbe il cosiddetto 3,5 G. È chiaro che una volta che si arriva a questo tipo di livelli prestazionali è possibile dialogare con la rete effettivamente consentendo l'accesso a servizi particolarmente evoluti. Ed è qui che c'è stata la vera e propria esplosione dei cellulari che hanno consentito tramite le app di poter sviluppare tantissimi servizi nuovi e qui facciamo vedere un BlackBerry che effettivamente all'epoca è stato un enorme successo di mercato soprattutto nell'area business perché consentiva effettivamente di svolgere le attività d'ufficio praticamente in qualunque luogo grazie alla connettività di tipo 3G. Si arriva poi alla 4G, la rete a commutazione di pacchetto ad alta velocità, è noto anche come sigla lo standard LTE che si trova anche rappresentato sui display di molti dei cellulari di oggi, che consente velocità decisamente più elevate. Parliamo di 326 megabit in download, 86 megabit in upload, quindi velocità di scarico e per poi accedere alla rete che sono effettivamente nettamente superiori e di fatto hanno ampliato ancora di più le possibilità di erogare servizi, tant'è che i cellulari di generazione attuale ormai assomigliano quasi a dei televisori, hanno degli schermi enormi anche perché effettivamente grazie a queste velocità è possibile tranquillamente lo streaming video e quindi poter fruire anche di contenuti televisivi come se si fosse nella propria abitazione. È interessante a questo punto vedere come queste diverse tecnologie che sono susseguite negli anni, che di fatto si sono stratificate, nel senso che oggi quelle tecnologie che consentivano di funzionare, i telefoni di prima generazione 2G continuano ad essere attive come antenne, sono quelle sostanzialmente tra i 450 e i 900 MHz. Successivamente le frequenze UMTS come vediamo qua sotto 1800-2100. L'attenzione che volevo porre su questa slide soprattutto è sul fatto che minore è la frequenza, come vediamo, e abbiamo questo cerchio disegnato più grande sostanzialmente. È un'immagine giusta per avere un'idea del fatto che man mano che la frequenza aumenta è sì possibile erogare servizi e trasferimenti di dati a velocità molto maggiori, però diminuisce l'area geografica che è possibile coprire con la stessa tipologia di antenna. Questo ci servirà in seguito poi per capire meglio come si possono formulare le ipotesi di localizzazione geografica basandosi proprio sulle informazioni provenienti dalle celle telefoniche. Ma l'evoluzione non è ancora finita, quello che stiamo per vedere prossimamente è l'arrivo del 5G, che ha un approccio completamente differente come struttura del tipo di rete, consentirà di avere, a seconda delle necessità, dei tempi di latenza diversi. Tempi di latenza si intende quando è il tempo sostanzialmente di ritardo che si ha nell'avere una risposta dalla rete. La velocità e la banda sono proprio quegli elementi che consentono di avere grandi scambi di dati, grandi quantità di dati in poco tempo. Vedete che la velocità addirittura può arrivare fino a 10 gigabit e parliamo ovviamente di velocità raggiungibili in connettività wireless senza fili. Diciamo che la slide aiuta a comprendere come questa evoluzione del 5G già dal prossimo anno, dal 2020, potrebbe effettivamente portare già dei vantaggi a diversi livelli e ovviamente consentire la generazione, la creazione e l'aduzione di servizi sempre più complessi che potranno fare riferimento a seconda della necessità a una maggiore banda oppure a una minore latenza. Pensiamo per esempio agli sviluppi che stanno facendo nell'ambito delle vetture a moto autonomo, dove sarà fondamentale avere delle connettività affidabili e veloci per poter scambiare i dati con il resto della rete stradale. Lo spunto di riflessione è tra un'antenna a 1800 MHz e una a 900 MHz, quale delle due è più probabile che si riesca a ricevere a maggiore distanza? Con questo andiamo all'introduzione della vera e propria rete GSM. Lo schema proposto in questa slide fa vedere quali sono le tre componenti principali, ovviamente non è il nostro scopo quello di addentrarci nei meccanismi tecnici della rete che sarebbero ben al di là della necessità di questo corso, però i concetti fondamentali sono indubbiamente cruciali per poter comprendere poi le attività che si riescono a svolgere a livello di informatica forense nell'ambito dei procedimenti e quindi intanto distinguiamo su questo grafico la parte che riguarda l'utente, tipicamente l'utente dove vediamo rappresentati la sim e il cellulare che sarebbe MS, la mobile station. La parte VSS, questa dove vediamo rappresentate delle antenne e delle centrali, è quella che si occupa di interfacciare sostanzialmente l'utente con quello che sta poi a destra, NSS, che è la vera e propria rete con cui vengono smistate effettivamente le chiamate telefoniche, gli SMS, l'accesso alla rete internet e quant'altro. All'interno di questa parte che è tutta cablata ci sono le interfacce che consentono il collegamento appunto con le altre reti, oltre al fatto di avere all'interno di questa parte della struttura tutte quelle strutture dati e quei servizi che servono proprio all'operatore telefonico a gestire l'utenza, l'offerta, il servizio e quant'altro utile poi all'utente che sono confinate in questa terza parte. La mobile station si compone del modulo SIM, che sta per subscriber identity module, e del terminale mobile, mobile equipment, ME, che è poi banalmente il telefono. INSI è l'International Mobile Subscriber Identity ed è utilizzato per le SIM card. Allora, ogni SIM card, noi siamo abituati ad associarla di fatto perché così è al numero telefonico, nel momento in cui la inseriamo su un qualunque cellulare, quel cellulare potrà consentirci appunto di fare e ricevere chiamate col numero telefonico che è contenuto nella SIM. In realtà il numero caratteristico di questa SIM è quello che vediamo qua, l'IMSI, che sarebbe sostanzialmente una sorta di codice contratto, valido, questo numero è valido a livello internazionale, nel senso che non possono esistere due codici IMSI al mondo identici, sono caratterizzati quindi per essere univoci. L'IMEI è invece l'International Mobile Equipment Identity, è il numero associato, possiamo definirlo come un numero di telaio del telefonino stesso, è un numero che caratterizza quindi sia il produttore, sia l'otto di produzione e anche il modello. Attraverso questo numero di fatto si riesce a comprendere qual è effettivamente il modello di telefono associato a quel numero. Di fatto questi due numeri unici consentono di identificare in maniera perfetta l'accoppiata SIM telefono, perché ovviamente laddove una stessa SIM, lo stesso numero telefonico verrà spostato su altri cellulari, sarà possibile vedere lo stesso numero IMSI associato a un codice IMEI differente, ma queste cose saranno più evidenti quando andremo ad analizzare il taburato di traffico. Intanto è utile comprendere come l'elemento telefono, che per noi è uno, in realtà si caratterizza in questo modo. La Base Transceiver Station, detta anche BTS, è sostanzialmente l'antenna, l'antenna che realizza la copertura radioelettrica che consente poi al cellulare di connettersi alla rete. Una BTS copre una specifica area geografica. Nella slide abbiamo grossolanamente rappresentato quella che può essere una struttura di diverse BTS, ne vediamo tre in questo caso, poi andremo più a fondo per capire che questa è la struttura effettivamente più utilizzata nel realizzare gli impianti, i siti, i cosiddetti siti di antenne telefoniche. Giusto come precisazione, è utile dire che il termine BTS è appropriato per la rete GSM, cambiando rete, andando sul 3G si chiama i node e cambiano i modi ancora per le antenne di generazione successiva, però nella semplicità della nostra esposizione manterremo semplicemente questa notazione BTS per tutte le tipologie di antenne che andremo a utilizzare e a spiegare. Più BTS possono essere installate su una stessa struttura, per esempio un tradizio, un palazzo, nel qual caso si parla di sito, come dicevamo prima. In questo caso, proprio guardando questa rappresentazione grafica, questo è un sito che contiene appunto tre antenne. È chiaro che questa parte coprirà una zona geografica, questa antenna, differente o quantomeno per buona parte, differente da questa. Ecco perché quando spesso si sente anche giornalisticamente parlare di agganciato alla cella di Via Rossi, in realtà sarebbe importante comprendere quale delle potenzialmente tre celle di Via Rossi è stata quella agganciata, perché come è già intuibile da questa rappresentazione, effettivamente la copertura può essere significativamente diversa. La singola, antenna, la singola BTS, è qui rappresentata per far comprendere qual è più o meno la sua configurazione standard. Allora, vediamo che c'è un'apertura che è dell'ordine dei 130, si usa indicarla in 120 gradi mediamente. Ovviamente la porzione, la direzione attraverso la quale viene irradiato il segnale migliore è quella, qui disegnata in senso verticale, la parte di zona geografica che sarà coperta maggiormente è quella rappresentata più scura, ma poi il segnale continua e ovviamente sarà ricevibile anche a maggiore distanza, poi in base alla tecnologia. Riguardando invece il sito, ecco qui la composizione di queste tre BTS, come abbiamo spiegato prima, e vediamo che sostanzialmente grazie a questa conformazione si possono coprire tranquillamente i 360 gradi tutto intorno, insomma, al nostro sito di celle telefoniche, andando a posizionarle secondo questo schema. La direzione principale di ogni singola antenna viene denominata azimut e viene espressa in gradi, come vediamo. Qui in una situazione semplificata abbiamo messo lo zero a nord, a 120 gradi sud-est ci sarà la cella di destra e quella di sinistra in basso 240 gradi di azimut. Questo tipo di struttura, andata ad allargare sostanzialmente sul territorio, fa in qualche modo, in questa immagine lascia un po' l'idea, è rappresentata un po' a esagomi, da cui il nome celle, la struttura cellulare pensata per ottimizzare la banda disponibile e ha questo tipo di rappresentazione semplificata, da cui proprio deriva questa configurazione tra celle che abbiamo visto prima. Ogni cella utilizza un canale radio diverso da quello delle celle adiacenti e questo è il motivo per cui la rete cosiddetta cellulare appunto viene replicata un po' come un alveare, facendo in modo che il singolo blocco di frequenze utilizzate in una porzione dell'area geografica si replichi poi nelle successive porzioni in modo da arrivare a una copertura capillare del territorio geografico. Quindi, tornando alla parte dello schema per illustrare l'ultimo pezzo, abbiamo visto quindi adesso la mobile station e sostanzialmente il pezzo che consente il dialogo a livello wireless, la parte successiva riguarda invece gli elementi che costituiscono poi l'ossatura della rete telefonica perché consentono poi di dialogare con il resto delle reti telefoniche degli altri operatori. La parte principale è l'MSC, la Mobile Switching Center, che è la centrale telefonica, è responsabile del routing, di stradamento delle chiamate e degli altri servizi. È proprio questo, l'MSC, che genera i file di traffico da cui vengono prodotti i tabulati telefonici per l'autorità giudiziaria. Chiaramente abbiamo voluto mettere in evidenza questo aspetto perché poi dovremmo trattare con attenzione i tabulati telefonici. In realtà la centrale non realizza solo questo tipo di funzionalità, ma ve ne sono molte altre, tra cui, per esempio, anche le funzionalità che servono per gestire le intercettazioni dei telefoni cellulari. A livello di centrale viene realizzata una vera e propria deviazione che consente poi l'ascolto alle cabine che stanno presso le strutture della polizia giudiziaria, tipicamente. Un altro elemento che abbiamo tenuto fuori in questa rappresentazione perché per il suo meccanismo di funzionamento è un po' diverso dalla chiamata telefonica, ma anche dalla connessione dati ad internet, è l'SMS. L'SMS utilizza questo meccanismo che si definisce store and forward, cioè memorizza e invia, ed è proprio un po' lo schema di funzionamento che vediamo rappresentato in questo grafico, in cui il cellulare che invia il segnale lo fa ovviamente attraverso la connettività con l'antenna più vicina, dopodiché viene passato alla centrale che lo smista a un centro che si occupa di gestire espressamente gli SMS, arriva a un cosiddetto gateway che consente di identificare non solo il mittente, ma soprattutto il destinatario e da qui viene inviato successivamente alla centrale che è collegata in quel momento almeno, o all'ultima informazione disponibile, all'antenna che sarà in grado di vedere il cellulare che deve essere destinatario del messaggio stesso. Tutti questi passaggi appunto il messaggio viene memorizzato e poi inviato al pezzo successivo e dopo questa fase viene cancellato del tutto. Questo aiuta già a comprendere una cosa che magari vedremo più avanti ed è il fatto che gli SMS non vengono in realtà memorizzati nella rete telefonica, ma una volta che vengono effettivamente inviati vengono cancellati dalla rete. Il tracciamento che c'è riguarda semplicemente il fatto che il messaggio è stato inviato ed è stato ricevuto, ma non vi è l'informazione relativa ovviamente al suo contenuto. Questo significa che già da questo possiamo rispondere alla domanda su come fare a leggere il contenuto di un certo SMS inviato. È chiaro che sarà necessario avere o il cellulare che l'ha inviato o il cellulare che l'ha ricevuto. Per quanto riguarda gli esempi di siti radiomobili in questa foto è possibile apprezzare un intero sito dove le antenne sono disposte orientate, questo blocco verso sud, questo blocco verso est, questo blocco verso ovest e andando ad ingrandire un singolo blocco si vede come in realtà è composto da diverse antenne, diverse BTS che assolvono al compito di gestire la connessione in diverse tecnologie, quindi vedete come abbiamo il GSM, il TACS a 900 MHz e anche quello a 1800 in questo caso che sono le antenne più piccole. per finire lo spunto di riflessione è ricordarsi che cos'è il codice e-mail. Modi e procedure. I telefoni cellulari quando si devono connettere alla rete edeggono una procedura che viene definita procedura di attach. Si tratta della procedura di autenticazione in rete della sim effettuata tramite l'utilizzo di una cravia crittografica presente nella team stessa. In pratica questo un po' aiuta a rispondere alla domanda ma è possibile clonare il telefono? Per rendere complicata se non impossibile questa operazione di fatto ogni nostra sim contiene un codice crittografico che non è possibile nemmeno leggere, in qualche modo è nascosto all'interno della sim e impossibilitati quindi a conoscerlo. Nel momento in cui il telefono cerca la connettività con la rete di fatto viene sottoposta a un quesito. La sim riceve dalla rete stessa una domanda a cui per rispondere deve utilizzare proprio la chiave crittografica che ha contenuto al suo interno. La rete sa che se la risposta è quella giusta il telefono è regolarmente, è originariamente quello e quindi è in grado di farlo accedere alla rete e connetterlo. Il detaccio è la procedura opposta, è la procedura che si esegue quando si spegne materiamente il cellulare e durante questa fase il cellulare stesso comunica alla rete che si sta spegnendo, questo in modo tale che la rete non deve più tenere a disposizione delle risorse per gestire quel singolo apparato cellulare. È chiaro che se il telefono si spegne per altre ragioni, magari perché si trova fuori dalla copertura oppure perché si esaurisce la batteria non sarà frutto di una procedura regolare di detaccio. Questo significa però che la rete in quel momento considererà che il telefono potrebbe essere ancora attivo e continuerà a cercarlo attraverso le antenne ultime a cui si era connesso. La procedura di handover è la procedura più importante nelle reti mobili, è sostanzialmente il cambio cella. La rete promuove il cambio cella in queste condizioni tipicamente, in base allo stato stesso della rete, nel senso che se c'è una cella particolarmente obberata dalla gestione di una elevatissima numerosità di utenti, allora cercherà di spostare magari la nostra utenza su una cella adiacente che ci consente comunque di continuare a ricevere il segnale. Oppure la potenza di segnale è rilevata dall'apparato stesso per le celle visibili, nel senso che anche se siamo all'interno della nostra abitazione, spostandoci da una stanza all'altra potrebbe essere che alcune celle rimangono maggiormente ricevibili di altre e quindi in base a questa informazione la rete può disporre il cambio. E ovviamente lo stato di mobilità del dispositivo, se ci stiamo spostando necessariamente ci sarà un momento in cui dovremmo abbandonare la cella che ci aveva concesso inizialmente l'aggancio e cercare una cella adiacente che ci consenta di continuare il servizio senza che per noi si interrompa per esempio la conversazione. Ecco, questa procedura fondamentale è la procedura di handover che consente lo scambio tra una cella e l'altra della conversazione o del servizio telefonico che era attivo in quel momento. Questo ci porta allo stato proprio del nostro telefono che potrebbe essere distinto di fatto in due modalità. La prima è l'idle mode. L'idle mode è la modalità in cui il telefono è passivo, non sta scambiando dati con la rete. Ecco, si tratta della modalità in cui il telefono non è in fase di comunicazione, ma scambia con la rete i parametri utili a mantenere la connessione e la presenza. Nel senso che effettivamente sembra inerte il telefono e nel momento in cui non sta avvenendo alcuna conversazione, in realtà durante quella fase vengono raccolti tutti i dati di misura della rete attraverso le celle che sono visibili in quel momento. Questo serve al telefono per essere sempre agganciato a una cella e consentire l'erogazione del servizio. In questa fase il telefono quindi monitora le celle visibili, seleziona e si aggancia alle celle in base alla potenza e ai parametri forniti dalla rete, si registra in un'area di rete. Laddove lo spostamento comporta l'uscita da un'area di celle, perché sono organizzate secondo delle precise aree, il telefono avvisa sostanzialmente che ha cambiato la macro area geografica a cui si trova prima. E questa è un'operazione che viene definita di location update, così la rete sa lo spostamento che è avvenuto. L'altra fase è il connected mode, si tratta della modalità in cui il telefono è in fase di comunicazione attiva. Questa fase rimane attivamente connesso alla cella, fornisce alla rete tutte le informazioni sulle celle visibili, esegue i comandi di cambio cella come da istruzioni della rete. Praticamente durante la fase precedente è il telefono che gestisce la connessione alla cella in base ai segnali che riceve e cambia a seconda appunto della potenza. Nella fase di connessione in realtà il controllo lo prende completamente la rete telefonica, che decide in base alla conoscenza che ha dell'utilizzo delle antenne, dello spostamento del cellulare stesso che in quel momento è in connessione e delle misure di tutte le altre celle vicine che il cellulare trasmette in tempo reale alla rete telefonica, ecco che la rete ha gli elementi per decidere come e quando eventualmente il cellulare dovrà cambiare cella tramite l'operazione di handover. In qualche modo abbiamo delegato durante questa fase il controllo completo alla rete telefonica. Un spunto di riflessione di questa parte è qual è la procedura che la rete attua nel momento in cui il cellulare muovendosi sta per perdere il contatto radioelettrico con un'antenna? Andiamo quindi ai cenni normativi. Il decreto legislativo 30 maggio 2008, numero 109, aveva previsto un periodo unico di conservazione dei dati di traffico ad uso dell'autorità giudiziaria senza distinzioni base a tipo di reato pari a 24 mesi per i dati di traffico telefonico, 12 mesi per i dati di traffico telematico e 30 giorni per i dati relativi alle chiamate senza risposte. Per intendersi traffico telematico si intende lo scambio dati con la rete internet. Ecco, tutto ciò non è più vero oggi, è utile saperlo perché i cambiamenti sono avvenuti durante questi ultimi anni e quindi esistono periodi in cui ancora valeva. Però adesso è cambiato tutto, vediamo come attraverso proprio la sequenza dei passaggi che ci sono stati. Nel decreto legge del 18 febbraio 2015, in occasione di importanti fenomeni di terrorismo di matrice internazionale, è stato appunto predisposto questo nuovo termine di conservazione dei dati telefonici. Sostanzialmente è stato detto che nessun dato doveva più essere cancellato fino al 31.12.2016 per qualunque tipologia di chiamata, quindi anche solo il tentativo di chiamata o la chiamata non risposta. Successivamente, col decreto del 30 dicembre 2015, questa estensione di periodo è stata ulteriormente stesa fino al 30 giugno 2017, sempre mantenendo appunto quindi il traffico di tutte le tipologie telefonica, telematico e tentativi di chiamata. Con la legge europea 2017, che è in vigore dal 12 dicembre 2017, sono stati prolungati i termini di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico e il termine attuale è stato messo a 72 mesi per qualunque tipologia di traffico. Di fatto quindi nel giugno 2017, quello che è successo è che sono cessati i termini del decreto, si è tornati da luglio 2017 nel periodo in cui era possibile conservare, era doveroso conservare i dati di traffico per due anni, fino ad arrivare a dicembre in cui è stato riesteso a addirittura 72 mesi. In realtà va detto che probabilmente questo termine verrà rivisto perché la Corte di giustizia europea l'8 aprile 2014 ha dichiarato invalida la direttiva europea 2006-24-CE sulla conservazione dei dati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica, sostanzialmente sostenendo che 24 mesi fossero troppi. Quindi questo significa che a livello odierno è possibile che in seguito a questa sentenza della Corte europea vengano impartite nuove indicazioni e quindi nuove direttive, probabilmente nuovi recepimenti anche nello Stato italiano che ridurrà, ma attualmente il termine è quello di 72 mesi. Questi dati conservati obbligatoriamente dagli operatori telefonici possono essere richiesti nell'ambito dell'attività giudiziaria. Chi può richiedere i dati c'è la possibilità tramite il decreto motivato del Pubblico Ministero, anche su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Al difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini è riconosciuta la facoltà di richiedere direttamente al fornitore dei dati di traffico limitatamente i dati che si riferiscono alle utenze intestate al proprio assistito. Questo è sostanzialmente il contenuto del provvedimento del garante della privacy che recepisce appunto la normativa in tema dei dati di traffico del 24 luglio 2008. Ciò significa quindi all'atto pratico che una persona sottoposta a indagini giudiziarie o imputata in un procedimento penale alla facoltà di muoversi in autonomia, quindi nell'ambito delle attività investigative individuali, indagini cosiddette difensive, di poter effettuare la richiesta direttamente all'operatore telefonico con la limitazione che deve trattarsi dell'utenza a lui intestata in quanto fosse intestata una terza persona non sarebbe comunque più possibile. Spunti di riflessione. Quali sono attualmente i termini di conservazione dei dati relativi alle chiamate senza risposta? E qui riepiloghiamo gli spunti che abbiamo visto nella lezione. Tra un'antenna a 1800 megahertz e una a 900 megahertz, quale delle due è più probabile che si riesca a ricevere a maggiore distanza? Che cos'è il codice IMEI? Qual è la procedura che la rete attua nel momento in cui il cellulare, muovendosi, sta per perdere il contatto radioelettrico con un'antenna? Quali sono attualmente i termini di conservazione dei dati relativi alle chiamate senza risposta? La mia lezione termina qui. Vi ricordo che sul sito dell'università è possibile andare a consultare per avere materiale aggiuntivo e ulteriori informazioni. e arrivederci alla prossima lezione.